Buongiorno ragazzi, io sono Lion e oggi siamo insieme ad Anna, Stefano e Mario Sta scrivendo, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazzi, io sono Dark Soul E oggi siamo di nuovo, non ho notato questo mondo strano Noi ci ragazzi siamo su Survival Survival, esatto Ditemi nei commenti se volete che vi faccia un vlog Se vi faccio un vlog o della casa O della O diciamo della Mentre io vado in giro Io vi farei il vlog della casa oggi Allora Aspettiamo che il mondo si carichi Oh, finalmente Vai, andiamo Vabbè, buonanotte Ah, finalmente Piove un po', vedo degli scheletri No, niente in mano Benissimo, vedo del grano Aspetta, quello è il mio di grano Aspetta, quello è il mio di grano E' un po' tutto laggiato Ah, non mi sono fatto niente Ah, ecco, è meno male che è meno Ah, ecco, è meno male che è meno male Dove cazzo sono tutti i miei oggetti Dove cazzo sono tutti i miei oggetti No, woos kh Foretty Vabbè, almeno La mia più grande costruzione Deo slime gigante Dello scorso episodio Ancora in vita Allora Ovviamente ci serve Oh, finalmente va benissimo Sì, ma ragazzi ho perso quanti oggetti Che facciamo? Non mi colpirete mai Ah, ecco Non mi ricordo di essere morto Ma l'importante è che abbiamo morito i nostri oggetti No No, sento ragni Sento ragni e vedo ragni È cattivo o è aggressivo No Non è vero Ero pure shot Ma perché Perché ci sono i miei blocchi su quell'albero? E non so come prenderli Così Comunque Spigiochei La skin di Spigiochei Ci ha aiutato Sì ma dove cazzo sono poi i miei altri oggetti Perché io Mi ricordo pure averne di più Ah Questa è un piccolo problema tecnico dello slime Eh vabbè Io se mi grafico una scala Ma io se faccio una cosa Do Mille volte più facile Vabbè tanto non si nota Aspetta ragazzi C'è un piccolo Piano B Piano B Mi ha una spinta Ok abbiamo capito SP e la bellezza Lion e la baggiosità Siamo bellissimi però Vai Io dormo Buonanotte E oggi ragazzi Dobbiamo farci Una genocider Che cosa significa? Andremo ad uccidere un po' Di mob Sciottalo 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 Fai vedere chi è il capo Che sono io Lion non perde mai Anche se è stato colpito 233 volte Sono 6 Dimmi che mi bastano 2 Sì Ho 2 Posso farmi i biscotti Alla faccetta tua SP Mi dispiace Tu ti mangi la fama Mentre io mi mangio l'infamia Vado a fare i biscotti Al cioccolato Al cao Perché non posso fare i biscotti Perché non posso fare i biscotti Funzionano in vertito E poi non so perché Ma ho solamente adesso uno di questi Che schifo Il marrone merda Questa è quella mia spada preferita Per il momento La spada in pietra Non è né troppo scarsa Né troppo forte Però oggi ragazzi Non siamo qui per fare Qualcosa di inutile Allora scusate ragazzi E che è una barrera Allora abbiamo il piccone in pietra Che adesso useremo per scavare qui E cerchiamo di fare più fretta L'episodio perché scaveremo poco poco Allora adesso vi avverto Di una cosa molto importante Allora scrivete sotto nei commenti Cosa devo portare Allora Scrivete nei commenti Che gioco volete Nel prossimo video E poi scrivete Hashtag Mi saluti E io saluterò Casualmente 10 persone Oppure 5 E Se scrivete Hashtag Lo youtuber Che volete Tipo che ne so Scrivete Hashtag Gabby 16 bit E io vi E io dirò Nei commenti Quale Quale metterò Mettendo Cuoricino E Scriverò Sotto nei commenti Del commento Del ragazzo Che mi ha scritto Ok Vabbè Questo era L'apertanza dei commenti Su minecraft Che stiamo diventati lion Ciao 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 Ciao